Bruxelles si appresta a varare il nuovo patto migrazione e asilo proprio nei giorni in cui è alle prese con un'ondata di partenze che puntano l'Europa lungo la rotta del Mediterraneo centrale e non solo. L'impennata dei nuovi arrivi che interessa soprattutto le coste della Sicilia preoccupa e non poco il governo nazionale e pesa sul nuovo patto migrazione in via di approvazione da parte dell'Unione Europea che sta animando il dibattito preelettorale per le prossime europee. Gli 8.000 arrivi nelle ultime tre settimane sui 12.000 complessivi dall'inizio dell'anno e soprattutto la ripresa delle partenze dei pericolosissimi barchini dalla Tunisia fanno temere nuove ondate di arrivi. Solo ieri sono arrivate 700 persone su 9 barchini, 400 sbarcate a Lampedusa e 300 a Pantelleria e Marettimo. La riduzione degli sbarchi ma anche il traguardo del nuovo patto asilo e migrazione che domani attende il voto finale di Bruxelles sono i risultati che il governo intende giocarsi nella campagna elettorale per le prossime europee. Un patto che privilegia la difesa dei confini europei che prevede una condivisione di responsabilità tra tutti gli stati membri che in nessun modo però obbliga alla redistribuzione di chi arriva e che non supera il regolamento di Dublino. Critica però la Lega che ritiene il provvedimento ancora troppo debole. A dispetto delle buone intenzioni e del grande lavoro svolto dal governo italiano che ha portato miglioramenti alla carente proposta iniziale dell'Unione Europea, ha dichiarato l'eurodeputata leghista Annalisa Tardino, il pacchetto di provvedimenti del patto migrazione e asilo promosso dall'UE risulta ancora non sufficiente a risolvere un problema epocale che riguarda l'intero continente e colpisce principalmente l'Italia con la Sicilia in prima linea e i paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Di segno opposto le preoccupazioni espresse dalle pagine di avvenire. Sul piatto dei 27 c'è infatti la sorte di oltre 500.000 persone che vorrebbero dare una svolta alla propria vita, buttandosi alle spalle guerra, violenza, miseria e discriminazioni. Il rischio per loro è che il viaggio della speranza si trasformi in una detenzione de facto alle frontiere dell'Unione Europea.